Ok Irzu Hi Allora, qua c'erano cose? Io prendo il girelli perchè si sa che è una donna Non puo farla a meno Uh, ho trovato una roba Ma, vedi lo scarrafo? Eh, non ci sono passata sopra perchè non l'ho preso Eccolo qua Qua c'è niente C'è proprio l'emblema Ma chi se ne fotte Dov'era l'emblema? C'è uno spray forse, non sono sicura Sì, ma... Non ne sei sicula? Sicula no Niente qua Tanto che ha bisogno di spray Ah, nessuno Qua ci sono delle... No Un misero documento No No, la rivoglio Dammela Cosa? Non mi ha granita Ah La mia granita La mia granita Non me la dai! Non me la dai neanche tu, scema Basta Non me la dai neanche tu scema Nessuno Ma tanto è un ubriacone Chris c'è niente guarda guarda l'inizio dei poveri questo però le prendo arrivato il dato govai ma un paio di la roba grazie non c'era una rossa in giro da qualche parte io voglio rompere questi io vado avanti guarda qua tac qua c'è qualcosa si ho bisogno perché potrebbe succedere qualsiasi cosa qua brava 1 2 2 brava schiava beh adesso spinti la leva muoviti donna bravo ora come non farsi sentire in tre qualcosa e niente che poveri di poveri animali cosa facciamo no ciao dopo gigante nutria la margola la ma stronzo che già stai la iena tu vuole incartare tu addosso qui questo bel cuore ciao forse giro io vuoi girare tu? gira tu va di qua non c'è niente? no eh devo farmi uno scuolo vorrei che mi incastro nella porta devi lasciarmi e avere una porta aperta non so io queste donne moderne no lo voglio qua cosa c'è? uh sorda cos'è questa? ah la mitraglietta dei poveri e le ultime parole famose grazie a dio non c'erano più questa? no ci sono tutti ieri alle spalle tutte e due lol dettagli dettagli qua niente buonasera buonasera qualcuno ha fatto rumore non è vero non è niente Già lei? C'è un'esorda Non vuole collaborare Le sorda sono più importanti Penso scassare le scatole Certo Scusa ammetti che ci sono cose importantissime Le scatole io non le do La faccio che stava fermo lì? Va bene Ok Sono morito La misarda La misarda Ora io si muore Non scazziamo Basta sono finiti Sono finiti? Sono ormai intenso? Serio? Ma dai No ce ne sono Ce ne sono un incastrato Due incastrati Tre incastrati Uccidioni Cazzo ma dietro al culo Ce n'era uno È morto? È un stardo L'ho ucciso Basta C'è ancora la musiquette Basta No senza camminare Eccolo Dammi quello che mi devi dare Dammi sorda Grazie Ok Basta Arigatou gozaimashita niente tutto questo per quattro sorda tanta fatica so strange ma in questo livello c'è quella se la mia parte preferita quella dove devi sparare in movimento no 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 è quella dopo qua c'è il bosa attenzione attenzione proposte la piccola ma come intelligente scema che ha capito che questo è il posto della foto guarda che bello spallo che ha gli scatti gianni ciao banzani esperimenti scema ovviamente loro già sanno usare si può cercare che provo l'informatico deno altri dito più veloce del west ma quella è troppo come prendere le robe attenzione attenzione gillala gillala dove è gillala gillala ha acquittato e e e e e e e e e per aiutare le persone di tutto il mondo per l'experimentazione non si può perdere perché? perché? mi aspettavo la tua messa mi saremo più calma è stato difficile è durato moltissimo questo boss fight è stato difficile non pensavo muoresse subito sto sudando dalla tensione la tensione mi stai sta uccidendo non va non andiamo a nemmeno da forciare la roda in giro aspettai ecco la Jill guarda lui così teso Jill io te amo è vuota buon compleanno ecco la qua grandi argomenti due soprattutto ah ah stessa cosa per te ecco la però tu non ci ascolti lei vuole il big ditto di Wesker tanto Wesker pensa solo a Chris e a come ucciderlo quindi è stato l'avevo finito guarda caso è lunghissimo allora possiamo registrarne un po' grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti